ciao e benvenuti in un nuovo video allora se parliamo di trattamenti per i capelli a livello professionale quindi più o meno di fascia di prezzo abbastanza sostenuta ma abbordabile che marchio gli viene in mente Olaplex immagino perché tutti parlano di Olaplex tutti hanno provato Olaplex sicuramente e se io vi ne dico un altro Christophe Robin allora partiamo da due marchi professionali per uso da professionisti che si possono usare tranquillamente anche a casa studiati da professionisti con prezzi abbastanza alti non stiamo parlando di Pantene ad esempio roba varia che comunque ottima e che io trovo ho guardato ci sono tutte e due da look fantastic nel caso codice sconto sempre nell'info box ed è sapete che ci sono sempre codice sconto allora vi parlo un po di questi prodotti perché ne parla tanto ce ne sono tanti alcuni più adatti ad altri per varie tipologie di capelli di capelli e di necessità devo insonorizzare questa stanza perché se no non ce la farò mai con prestazioni se usati bene anche abbastanza valide abbastanza valide non è in miracoli non li fa nessuno allora io scusate un attimo ok allora dunque partiamo con Olaplex è un marchio costoso ma se fatto da trattamento in salone e poi per il mantenimento a casa i risultati effettivamente si vedono è sempre meglio però che parta con un professionista che faccia il trattamento giusto con i prodotti giusti e poi dopo si fa il mantenimento perché non tutti i prodotti di Olaplex sono adatti ad ogni tipo di capello ci sono quelli mirati per le proprie esigenze Christophe Robin siamo più o meno allo stesso punto magari si può fare una celta più varia ci sono diversi prodotti e sono stati creati dei set ad esempio quello per capelli colorati e quello per capelli danneggiati quello per volumizzare vari set è in modo da poter provare i prodotti più adatti alle proprie esigenze anche in questo caso io direi che quando ho bisogno di un trattamento urto perché tendo a provare tanti prodotti per i capelli per diversi periodi di tutti i marchi dai professionali a quelli da supermercato e in tutti e due i casi ci sono prodotti che mi piacciono o che non mi piacciono o che comunque a quelli da supermercato dico però questi sono validi oggi parliamo di Olaplex e Christophe Robin quindi vediamo se i soldini sono spesi bene partiamo con vi dico ho preso i fogli per dirvi i prezzi trattamento urto per capelli da rinforzare da quelli danneggiati quindi da rinforzare con doppie punte che si spezzano facilmente shampoo e balsamo Olaplex numero 4 e Olaplex numero 5 il prezzo è di shampoo 100 ml 27 euro e 50 balsamo 250 ml 27 euro e 90 perché è più grande il balsamo dello shampoo ma ve lo dico subito lo shampoo che è questo qui eccolo qui è molto denso se ne vede che c'è ancora un pochetto è molto denso ne basta poco emulsionato con l'acqua fa una bella schiuma si massaggia bene ma ne basta poco sembra concentrato quindi ne basta pochino al massimo si aggiunge però partite con poco lo emulsionate e lo emulsionate sui capelli umidi e vedrete che è sufficiente deterge bene non secca la cute non fa i miracoli ma comunque sia non va neanche a seccare il capello in modo che poi se lo shampoo secca il capello ci vogliono quintali di balsamo per andare a sistemarlo e non è quello che vogliamo anche perché poi i capelli saranno grassi unti appesantiti quindi è uno shampoo che deterge fa il suo lavoro e allo stesso tempo non richiede l'utilizzo successivo di ulteriori trattamenti strong perché andiamo a completare la detersione con il balsamo bone maintenance conditioner rivitalizzante per il mantenimento sempre questo è il numero 5 di questo prodotto dipende cosa volete farne perché è un balsamo classico che però non va a pesantire i capelli e nello stesso tempo una volta è rimosso si sente che sono più corposi ne basta poco se vogliamo fare un trattamento ad esempio come balsamo ed è un conditioner classico se invece vogliamo ad esempio un trattamento in più più profondo che però non sia una maschera perché la maschera è molto potente andiamo ad applicare una dose un pochino più generosa per questo che la confezione è più grande perché ha un doppio uso uso classico o d'uso un po' più generoso da mettere solo sulle lunghezze mi raccomando mai sulla cute perché se no andrei da pesantirla troppo e dopodiché si lascia in posa qualche minuto quello che faccio io invece sempre con la posa è andarci ad aggiungere il numero 3 il numero 3 ripara e rinforza allora io utilizzo aspettate perché vi dico il prezzo anche del numero 3 no sempre 100 ml 27,50 euro quindi siamo sempre sui 27,29,50 euro quindi siamo sempre lì allora il numero 3 io lo uso dopo lo shampoo quindi faccio lo shampoo classico poi vado con il numero 3 shampoo lo rimuovo ed è tampono i capelli numero 3 solo sulle punte proprio solo sulle punte la parte proprio finale lascio in posa qualche minuto rimuovo e poi vado col balsamo io così mi trovo molto bene ed allo stesso tempo trovo che i capelli siano meno secchi allo stesso tempo meno stopposi soprattutto dopo le tinte e le decolorazioni trovo che funzioni sì, sul fatto di rinforzare rinforza perché non vengono le doppie punte non sul fatto che ne cadano meno però allo stesso tempo non vado ad applicare troppi prodotti sui capelli in modo che poi dopo vadano ad appesantirli che sembra subito che abbiano bisogno di tanta nutrizione poi invece si appesantiscono si spuocano più velocemente e tutto un... si lavano più frequentemente e tutto un circolo vizioso ho trovato che di tutta la linea questi funzionino questo non vuol dire che sono la svolta funzionano mantengono le promesse non sono la svolta si può fare tranquillamente a meno se uno l'ha fatta meno fino adesso si può fare tranquillamente a meno se si trova bene con la sua linea di prodotti si può nel caso provare nel caso invece uno voglia fare un cambiamento oppure voglia un rinforzo in più ma adesso cambio foglio perché vi voglio parlare dei trattamenti di Christophe Robin anche in questo caso trattamenti che in alcuni casi mi sono piaciuti in altri no vi dico quelli che ho preferito o quelli che ho detto per altri marchi non avrei mai guardato e di questo marchio per me sono la svolta allora il primo che vi mostro è il gelé de melant purifiante è un balsamo un conditioner in gel vi ho fatto la clip purificante allora questo è un 75 ml ma guardo il prezzo 200 ml 27 euro e 45 vi ho fatto la clip perché credo di averlo finito completamente sì credo che sia scusate questo sia simpatico da simpatico non solo è da provare almeno una volta perché trovo che un balsamo in gel gelatinoso in gel gelé sia io non l'ho mai provato in altri marchi ed è particolare bello da diverso diverso da provare è un balsamo quindi lunghezze e punte lascia giri qualche minuto e poi si rimuove sulla funzione purificante idrata idrata lascia i capelli idratati e non so se dice qualcos'altro perché io non ho non ho trovato altre aiuta esatto per i capelli fini e sottili idrata senza appesantire quindi questo purificante purificante non l'ho capita perché comunque idrata non appesantisce non li fa diventare più non li fa sporcare più velocemente ed è devo insonorizzare questa stanza perché se no sto diventando davvero matt e dallo stesso tempo secondo me da provare almeno una volta ci sta altri due prodotti che non ho mai visto o se li ho visti da altri marchi li avete visti voi ditemelo perché queste consistenze particolari non le ho mai viste oltretutto questi due che vi mostro sono due tipi di maschere che funzionano benissimo ma benissimo allora prima è questo questo dovete provarlo almeno una volta perché questo è un patè lavante volumizzante non è il classico non è una pasta non è il classico shampoo volumizzante non è una crema volumizzante è un patè volumizzante poco prodotto si subito sembra duro lo si applica sulla cute umida fa subito la schiuma e poi ha un buon profumo lo sento anche così di rosa fa subito la schiuma si diventa morbida una schiuma morbida è proprio dovete provarlo questa una volta dovete provarlo vi dico il prezzo 75 ml 17 euro e 45 considerate che questo è un 40 ml ci ho fatto tre applicazioni quindi un prezzo anche accettabile per un prodotto che è diverso per un qualcosa di diverso di shampoo sicuramente lavano anche loro tranquillamente ma questo ha una consistenza che io non avevo mai provato cioè non è lo shampoo solido è proprio tipo una pasta che applichi sulle cute bagnata e fa subito una schiuma ma una schiuma morbida non la schiuma classica una schiuma morbida una schiuma cremosa che deterge bene non irrita non secca che funziona bene che funziona assolutamente bene ultimo prodotto che mi è piaciuto e mi è piaciuto davvero anche questo ce ne sono sicuramente altri che funzionano più o meno come lui ma questo mi è piaciuto questa è la maschera rigenerante con olio di fico 250 ml 49,45 euro è una maschera classica per i capelli ok come ce ne sono tantissime sicuramente il prezzo è sicuramente molto alto ma dal prima al dopo ho notato assolutamente la differenza cioè soprattutto quando ho i capelli dopo le tinte le settimane successive alle tinte dei capelli dove i capelli sono un pochino più secchi si sente che sono un pochino svuotati questo li rende morbidi corposi mantenendoli leggeri comunque sia non vanno a sporcarci non vanno a fare effetto sporco più appesantito rimancono leggeri ed sono super super idratati oppure anche nel periodo estivo dove magari si prende il sole o comunque sia i capelli tendono ad essere più stressati non ne basta tanto proprio ne basta pochissimo quindi la confezione da 250 ml penso che vi dura tutta la vita una noce di prodotto sulle punte e sulle lunghezze cioè questa questa parte qui per intenderci lunghezze e punte fa la differenza c'è proprio una situazione particolare un trattamento particolare che io ho riscontrato essere così morbidi districati pettinabili solamente con quei trattamenti avete presente quei trattamenti dopo dopo la tinta che c'è sempre quella bustina di trattamento che quelli sono spettacolari c'è sembra un booster una bomba di prodotto ecco lo stesso risultato ed è sempre questo wow perché te li rende idratati morbidi leggeri e luminosi in questo se ci sono altri prodotti simili anche più low cost fatemelo sapere perché sono curiosa di provarli questo resta tra i miei preferiti assolutamente allora io a questo punto del video oltre che voi non ne potete sicuramente più di tutto questo cosino che si sente dovrò sicuramente trovare qualcosa anche solo le pareti no però forse la finestra adesso studierò studierò anche questo speravo di aver finito la sistemazione dello studio ma a quanto pare fatemi sapere se avete provato qualcuno di questo prodotto Olaplex oppure Christophe Ruben oppure tutte e due con quale vi siete trovate maggiormente e quale vi incogisce da provare ed è non è che vi dico provate quello o quell'altro è meglio quello o quell'altro ci sono tessini prodotti da supermercato comunque a prezzi bassi che funzionano egregiamente assolutamente però da provare almeno una volta oppure da capire se davvero tutto questo parlare pubblicizzare ed è consigliare è vero oppure no ci può stare soprattutto per queste texture particolari che non credo che li comprerò anche perché da provare una volta e dici sì bello c'è un altro prodotto di Christophe Ruben che non ho qui ah perché lo sto ancora usando che mi piace molto mi ha fatto rivalutare lo scrub per il cuoio capelluto vi metto una foto da queste parti io io non amo gli scrub assolutamente soprattutto perché non si rimuovono mai del tutto e quello invece mi è piaciuto molto perché va a pulisce bene la cute lo uso pochissime volte durante l'anno pulisce bene la cute ma allo stesso tempo fa questa schiumetta che è un gel lavante nel stesso caso fa questa schiuma che ti aiuta a rimuovere tutti i granelli quindi è particolare ma anche quello funziona bene sì per provare qualcosa di texture diversa è un marchio che è tutto super performante non è solo divertente è super performante assolutamente e a questo punto del video io penso di stare parlando e sprolofando da troppo tempo ormai quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate non vi preoccupate a breve arriverà il video con tutti i prodotti per capello da supermercato o comunque sia da tutti i giorni che sono più che funzionali e niente adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao